La Biblioteca Lazzarini festeggia 10 anni nella nuova sede, all'interno dell'ex fabbrica Campolmi. È dentro la fabbrica Campolmi, quindi dentro l'intervento più importante, probabilmente degli ultimi 30 anni, l'intervento pubblico più importante di questa città, che ha riconsegnato la fabbrica più grande dentro le mura trecentesche a una funzione strepitosa tra musei, biblioteche e archivi. La Lazzarini, il 23 novembre del 2009, apre nella nuova sede e da allora è il cuore pulsante del centro storico di tutta la città. Un anniversario celebrato con un ricco programma di eventi che spaziano dalle attività per i più piccoli fino alla lettura e ai concerti. Innanzitutto c'è la Notte Bianca per i più piccoli con letture, giochi dal sabato 23, quindi si inizierà a festeggiare questo compleanno. E poi un'apertura straordinaria della nuova alle 24 con ospiti del calibro di Gipi, che è un disegnatore, un autore, un drammaturgo del fumetto di straordinaria qualità e notorietà, con Lina Sastri, con musica, con il concorso We Loves Monument che ha raccolto candidature da tutta Italia e con molto altro ancora. Questo perché la biblioteca offrirà un'apertura e una lettura diversa di tutti i suoi spazi. L'intensa giornata si concluderà alle 23.30 nella hall dell'ingresso, dove il sindaco Matteo Viffoni e l'assessore alla cultura Simone Mangani taglieranno la torta e faranno un brindisi aperto a tutti i partecipanti. Nel 2018, su 326 giorni d'apertura, ci sono stati 5.332.933 ingressi, mentre i prestiti di libri sono stati 150.342.